Sabato 14 marzo alle ore 17.30 si terrà presso la Sala dei Francesi del Castello Angioino Aragonese di Agropoli la manifestazione dal titolo L'utilizzo della canoa per la valorizzazione e la tutela degli ecosistemi marini. L'iniziativa rientra tra le diverse attività dell'Associazione Kayak Agropoli Trezzeni, che attraverso la fruizione della pratica della canoa kayak vuole lanciare un messaggio volto alla valorizzazione e tutela della costa blu del Cilento, brand turistico fortemente voluto dal sindaco di Agropoli Franco Alfieri, anche al fine di una maggiore conoscenza delle potenzialità turistiche del territorio. In tale ottica rientra il racconto del canoista Giancarlo Albertari, medico veterinario che porterà la sua personale esperienza vissuta in Groenlandia, dove ha realizzato la spedizione in kayak da mare in East Greenland, percorrendo circa 300 chilometri nei fiordi della regione di Yangmangzallik. Nello specifico saranno presentati due cortometraggi, un veterinario in kayak tra i ghiacci della Groenlandia e non a Nuk, diario di bordo di una spedizione in kayak in Groenlandia.